Ciao a tutti, mi chiamo Elena Bortolotta, sono la palleggiatrice di Iseo Serratune Volley Pisogne. No! Delle Iseo Serratune Volley Pisogne. Delle Iseo Serratune Volley Pisogne. Iseo, Pisogne, Serratune... No, Iseo Volley Pisogne, Serratune. Sono Vincenzo Doninelli, allenatore del Volley Iseo Serratune Pisogne. Bisogne. Ok. Non dico bisogne. Iseo Serratune. Non ce la faccio dire bisogne. Bisogne. Ciao, sono Alessa Pacchiotti, libero dell'Iseo Volley Serratune. Ma non ce la faccio. Ciao a tutti, sono Sara Corterazzo, schiacciatrice dell'Iseo Serratune. Ciao a tutti, sono Elena Rolando, libero dell'Iseo Serratune. Buon lì. Ciao. Sono Simone Tizzoni, preparatore di Volley Pisogne, Iseo Serratune. Eh ma non ridere, mangio figa. Sente. Iseo Serratune Volley Pisogne. Non c'è? Iseo Serratune Volley Pisogne. Cora? Iseo Serratune Volley Pisogne. È una scioglilingua. È una scioglilingua. Ragazzi, io ve l'ho detto che non sono capace a fare queste cose. Anche Vigine. Anche, come ho guarda prima, sono창 Stefano � mod biology con il bagno di Socanzo. Alla esfera soprattutto in C neste tempo. Non c'è una scioglilingua. Quando fa parte Gol